Devo dire che se fossi a Pila o a Gressione Saint-Jean sarebbe malissimo, ma sono in autostrada e adesso non scherza, non scherza, non scherza, ad Alzano mi ha detto Simon Polini che ce n'è giù per strada, io ho ancora 6 km per arrivare a Dalmine, per cui vediamo un po' come butta, bella esperienza, la cazzata prende sempre più forma.